Il sesto giro degli 8 più 1 che sarà poi il giro definitivo per la chiusura sopra aggiunge Massimiliano Bertolucci numero 65 con alle spalle la scelta numero 108 per l'inizio della ferroversia che ha all'interno lo scampo numero 20 quello di Achille Massucotelli un Achille Massucotelli che va all'attacco in questo momento Bertolucci fa un po' da capo vediamo che Massucotelli potrebbe tentare la traiettoria esterna per fare una doppia virata davanti alla riga foranea attendiamoli quando tra l'anno e il camo visivo fuori dalla virata ed è proprio Achille Massucotelli